Ci mancava la riede lì davanti, Camille Mastrosanti, anche se comunque i ragazzi che sono venuti contro la Lazio hanno fatto una gran partita, abbiamo perso a 30 secondi dalla fine. Su un fallo ovviamente dubbio, che a mio avviso non c'era, però comunque accettiamo quello che è successo, complimenti alla Lazio che ha vinto, ma noi siamo duri a morire.